Salve, buongiorno a tutti, la mia storia di sapori nasce dalla mia famiglia nel 1945 e da mio nonno quando si sono approcciati al mondo del vino, all'enologia, con la produzione di vini della zona del Soave, poi tramandata a mio papà e ad ora a me e alla mia sorella che portiamo avanti l'azienda, i sapori della vallata dell'Alpone, quindi il Soave Doc, il Soave Classico, il Durello Lessini della zona di Montechia di Crosara, l'azienda è Casarotto, vi presento un attimo i vini, i vini sono il Soave Doc che si sposa con l'aperitivo, con antipasti, antipasti anche di pesce, il Soave classico Vigne di Fittà che è il nostro cru, che si abbina al pesce, molto più strutturato, corposo, pesce di un certo tipo, pesce crudo, poi abbiamo Lessini Durello, spumante, ottimo come aperitivo o con antipasto di pesce. La nostra produzione è contornata del Reciotto di Soave, un vino dolce, quindi torte secche, sbrisolona e in abbinamento è ottimo anche con formaggi erborinati, mostarde, gorgonzola, formaggi importanti e quindi la mia esperienza di sapori nasce iniziando con il vino e poi sposando questa cosa, abbinando il vino poi al cibo. Grazie. Grazie.